Politica amministrativa, se a Biella si candida Giovanni Rinaldi per il Movimento 5 Stelle a Cossato, Roberto Galtarossa con una lista civica di impronta PD. Parliamo invece adesso delle prossime elezioni amministrative. Ieri doppio appuntamento per la presentazione di due sindaci. Partiamo da Biella con il Movimento 5 Stelle a presentarsi Giovanni Rinaldi. Doppia motivazione per questo incontro, inaugurazione del nuovo spazio dedicato proprio al centro città per il Movimento 5 Stelle e la presentazione del candidato sindaco Giovanni Rinaldi. Allora, intanto l'abbiamo conosciuto negli ultimi 5 anni all'interno del Consiglio Comunale, molte le interrogazioni, diversi i punti di discussione. Perché i cittadini residenti del capoluogo devono votare Giovanni Rinaldi? Guardi, le nostre aspettative sono legate a due aspetti fondamentali. Uno, quello che abbiamo dimostrato in Consiglio Comunale, 5 anni di grossissime battaglie nell'interesse dei cittadini, 5 anni purtroppo di battaglie condotte da soli, su questioni di fondamentale importanza, non stupidaggine. Quindi, quello che erano le battute su di noi, sull'incapacità nostra, l'abbiamo dimostrato ampiamente che forse siamo molto più capaci di altri. Detto questo aspetto che è preliminare, che l'abbiamo dimostrato, ora sono gli aspetti successivi, quelli che vogliamo fare per la città. Noi crediamo realmente che la città possa meritare altro, possa avere un elemento di discontinuità su quello che si è fatto rispetto a quello che si può fare. Da una su tutte. Ma a differenza, per esempio, io enfatizzo moltissimo la questione dei trasporti. Tante volte ci stigmatizzano come quelli che non vogliamo i collegamenti, non è assolutamente vero. Sapete la posizione che abbiamo sul TAV, ma quella è una posizione comunque di cui sono estremamente convinto. È diverso invece il collegamento, per esempio, con Milano, senza assolutamente trascurare le possibilità di elettrificazione, che noi siamo perfettamente d'accordo. Però non vogliamo più perdere tempo. Noi riteniamo che è possibile collegare Biella con Milano-Rho, tra l'altro molto più agevole e immediato, e addirittura intervenire come comune e dare un contributo economico a chi decide di trasferirsi a Biella.